Com'è vivere fuori dall'euro? Questo è il nostro viaggio in Gran Bretagna, il maggiore paese europeo che non ha aderito alla moneta unica. In vita fuori dall'euro, indaghiamo tutti gli aspetti che regolano la vita di questa nazione. Il tema di questa puntata è il lusso. Il lusso, ovviamente, fuori dall'euro. Reteconomy, la nuova visione dell'economia.